Dicono che la nostra età è la più bella, ma hanno idea di che vita facciamo. Prendiamola a scuola. Cari ragazzi, ma le cose fanno molto male. Chi mi rimane allora? I miei amici. La sua teoria è che al mondo ci sono un miliardo di ragazze e per trovare l'anima gemella bisogna provarle tutte. Federica, un sogno irrealizzabile. Ma soprattutto il mio blog, Ultimi della classe. Hai un blog su internet? Per salvarvi dalla retrocessione ci vuole soltanto un miracolo. L'ho beccata su internet, il calendario c'è qualche anno, ma lei si faceva chiamare Miss Standing Govish. Altro che Gofuscolo. È così che vi paghi la nostra fiducia? Dai sali, andiamo. Dobbiamo studiare, vabbè, poi è da vomita. Credo di aver capito che ogni studente ha un suo punto debole. Non domina chi è venuto a fare un'elezione oggi? Miss Standing Govish. Come andava ieri sera alla festa? Di merda, grazie. Allora, chi vuole partecipare? Uno è che ha bisogno di farsi tutti quelli che incontra per dimostrare che vale qualcosa come l'hai chiamato voi? Una ragazza attualista? Ho un sacco di visitatori, nessuno di loro ha mai visto la mia faccia, ma tutti mi considerano un grande. Prima o poi ti accorgerai anche tu di quanto sono figo.